Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La zona volcanica dei Campi Flegrei da diversi mesi registra una intensa attività sismica accompagnata al fenomeno del bradisismo, accentuato nell'area del comune di Pozzuoli. Tali eventi, naturalmente, preoccupano la popolazione e diverse iniziative volte ad informare i cittadini, sono state prese nelle scorse settimane da parte delle istituzioni. Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Oggi, 16 luglio, alle ore 7 e 59, sensori dell'osservatorio Vesuviano hanno registrato, nell'area del vulcano Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 1.9 della scala Richer, con epicentro alla Solfatara. I residenti antistanti la zona della Solfatara hanno nettamente avvertito la scossa, generando come sempre tanta preoccupazione. L'evento sismico accompagnato da un boato si è prodotto alla profondità di 1,86 chilometri ed è stato avvertito a Pozzuoli, Agnano e Bagnoli. Secondo quanto riportato, non si segnalano fortunatamente comunque danni a persone o abitazioni. L'allerta resta comunque alta per una zona volcanica considerata pericolosissima, anche se non desta al momento preoccupazioni per gli esperti.